Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Se sei un vero tifoso dell'Azzurro e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie e analisi sulla squadra di calcio italiana, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di lasciare un mi piace per supportare i contenuti. Jonathan David Dell'Ill guida la corsa per sostituire Victor Osiman al Napoli. Si dice che la stella Dell'Ill Jonathan David sia in testa alla corsa per sostituire Victor Osiman al Napoli in estate. Il Partenopay sembra destinato a perdere Osiman in estate, con il Paris Saint-Germain che potrebbe ingaggiare il nigeriano. Ma il Napoli si prepara già a perdere il proprio attaccante. La Gazzetta dello Sport sostiene che, sebbene la sostituzione di Osiman sia una questione complessa, sembra che David Dell'Ill sia il prescelto per essere un sostituto adatto per il nazionale nigeriano. C'è concorrenza nel mercato per il nazionale canadese e l'amministratore delegato del club Aurelio de Laurentiis deve ancora accelerare una mossa per il giocatore dell'Ill. E i rapporti tra i due club sono considerati molto buoni. Santiago Jimenez del Feyernord sembrava un sostituto adatto qualche settimana fa. Ma il Napoli ha dovuto affrontare problemi per quanto riguarda il prezzo richiesto dal club olandese, che attualmente è di circa 60 milioni di euro. Il prezzo richiesto da David è più basso poiché il suo attuale contratto scade nell'estate del 2025, rendendolo un obiettivo molto più attraente. Non dimenticare di iscriverti al canale Notizie del Napoli per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla squadra. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia un mi piace per supportare il canale e contribuire a spargere la voce a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.